Poracci bravi tutti che avete riconosciuto erbacio più schifoso della storia dei videogiochi, ma il commento che meglio cattura la natura assolutamente sbagliata, deviata e perversa di questa scena, secondo me è quello di Topo di Fogna, ottimo nick, che se ne esce con Sonic Sonic Literature Club, quanta cultura. E chiudiamo con un altro grande classico dell'imbarazzo, solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo fino a 1080p. Sapete come si dice, no? Il TG Poro del venerdì ha l'oro in bocca, perché porca miseria se questa sarà una puntata ricchissima. Con un tempismo perfetto è stato reso pubblico un brevetto di Nintendo che sembra confermare l'esistenza di un hardware in grado di gestire il 4K. Un ente di rating ha spolerato di nuovo l'esistenza di un titolo molto atteso e dei rumor prendono anche in esame le strategie di Konami per il futuro, che sembra intenzionata a riavvicinarsi in modo serio al mondo del gaming. Ma sapete quale studio non si è mai allontanato da questo settore? Ma la TG Poro Productions ovviamente, che vi invito a sostenere con un piccolo gesto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle protifiche. E ora che ci penso, se siete nuovi potreste essere un po' confusi da quest'intro, ma vi assicuro che è tutto sotto controllo. In descrizione poi trovate i link al Porion e il Patreon dei Polacci. Su, non c'è tempo da perdere, venerdì sbrighiamoci. Partiamo! Qualche notizia al volo per scaldare i motori. Continuano ad arrivare su cose novità direttamente dal TGS, la fiera di videogiochi più importante di tutto il Giappone. Si parte con Square Enix, che ha ufficializzato la data di uscita di Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. L'action in terza persona sviluppato dal team Ninja, quelli di Ninja Gaiden e Niho, arriverà su console Sony, Microsoft e PC il 18 marzo 2022. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova versione della demo pubblicata a giugno, che sarà disponibile fino all'11 ottobre. La versione di prova, disponibile per console next-gen, aggiungerà una nuova zona e anche delle funzionalità multiplayer. Capcom ha invece svelato la data in cui Monster Hunter Rise arriverà su PC. L'hunting game perderà l'esclusività su Switch il 12 gennaio 2022, ma una demo sarà già disponibile dal 13 ottobre. Su computer il gioco vedrà diversi miglioramenti, tra cui il supporto al 4K e a risoluzioni ultra-wide. Il framerate sarà sbloccato, ci saranno miglioramenti alle texture e l'aggiunta del supporto a mouse e tastiera. Chissà se Capcom aggiungerà anche qualche funzione di cross-save. Una bella bomba anche in casa Sony, che ha annunciato l'acquisizione di Bluepoint Games, che entra a far parte della scuderia dei PlayStation Studios dopo anni di collaborazioni in qualità di second party. Dopo l'ultimo successo ottenuto con il remake di Demon's Souls, lo studio è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura, stavolta col pieno sostegno economico di Sony. La cosa interessante, che ci tornerà utile per la notizia in chiusura della puntata di oggi, è che Bluepoint ha confermato che il suo prossimo progetto non sarà un remake, ma un gioco completamente nuovo. Quindi, quei rumor su Metal Gear Solid... Ma aspettate, aspettate, andiamo con ordine. Intanto parliamo di Nintendo. Dopo il casino che si è scatenato con l'ultimo articolo di Bloomberg, dove veniva ipotizzata per l'ennesima volta l'esistenza di Switch Poro e Pro, ci sono stati interessanti aggiornamenti, usciti fuori con una tempistica semplicemente perfetta. Preparatevi, poracci, perché continueremo a sentir parlare di Switch Pro ancora per molto tempo. Intanto un breve riassunto per chi non si fosse visto il TG Poro di ieri, però in caso sappi che mi hai deluso. Bloomberg ha affermato che almeno 11 studi di sviluppo hanno accesso ai development kit di Switch in grado di supportare il 4K, motivo per cui è ipotizzabile che Nintendo abbia in programma una nuova revisione della console, quella Switch Pro, che non è la OLED. Risultato? Nintendo si è adirata, indicando il report come falso e pieno di incorrettezze, Zynga, tirata in mezzo, se ne è chiamata fuori, smentendo il tutto, e Bloomberg e i suoi giornalisti perdono sempre più credibilità. Ma... c'è un ma. Proprio ieri è stato reso pubblico un brevetto registrato da Nintendo che riapre tutta la questione Switch Pro in modo inaspettato. Si tratta di un concept depositato negli Stati Uniti e datato 25 marzo 2020, periodo in cui effettivamente c'era parecchio a vociferare intorno alla Switch Pro. In questi documenti, in cui spunta anche il nome di Alexandre Delattre, cofondatore della divisione ricerca e sviluppo di Nintendo Europa, viene descritta una tecnologia di upscaling tramite machine learning, un principio molto simile al DLSS di Nvidia. In alcuni video vi ho già parlato di questa tecnologia e vi rimando agli approfondimenti passati per capire un po' come funziona. Quello che conta è che grazie a feature come il DLSS è possibile aumentare drasticamente la risoluzione di gioco senza gravare sulle performance della console, che nativamente continua a generare un segnale a bassa risoluzione. Il fatto che Nintendo si sia avventurata in campi del genere è una conferma più o meno diretta che sta lavorando attivamente nell'implementazione del 4K anche su hardware modesti come quello di Switch. E chissà che quanto riportato da Mochizuki non nasconda un fondo di verità. OLED potrebbe essere stato un ripiego rispetto al progetto iniziale, complice anche le difficoltà di produzione durante la pandemia. Va notato però che la presenza del brevetto non conferma automaticamente l'esistenza di Switch Pro, ma solo che Nintendo sta sperimentando da tempo soluzioni possibili che potrebbero essere implementate anche direttamente su un futuro hardware e non su una semplice revisione. Per quanto riguarda Bloomberg, penso semplicemente che ci sia stata una sola posizione di informazioni e che quello che Mochizuki chiama con tanta sicurezza Switch Pro è solo un prototipo da parte di Nintendo che probabilmente non vedrà la luce del sole ancora per molto tempo. Voi poracci cosa ne pensate? Se però c'è una cosa che abbiamo imparato in questi mesi di TG Poro è che una fonte molto affidabile di informazioni sono i database dei sistemi di rating. Gli enti che si occupano di dare una valutazione ai giochi, come ad esempio il PEG in Europa e l'ESRB negli Stati Uniti, molto spesso ci riservano delle anticipazioni clamorose. Il caso più recente lo abbiamo visto con la Castlevania Advanced Collection, un titolo svelato durante il Direct, ma che poco prima del suo reveal era già comparso su molti siti di rating dandoci così la possibilità di sapere in anticipo su cosi dettagli come la presenza di un quarto gioco, la cover del box o anche altre feature pensate per la raccolta. E ora è il turno della trilogia dei GTA in 3D, ovvero GTA 3, Vice City e San Andreas, di cui si parla ormai da parecchio tempo. Infatti ieri sul sito dell'entity rating sudcoreano è apparso un nuovo titolo dal nome di Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Secondo Kotaku l'uscita della raccolta sarebbe prevista per questo novembre, quindi a questo punto mi aspetto un'annuncia sorpresa da parte di Rockstar che, secondo i rumor, sta investendo parecchio in queste remaster. C'è chi parla addirittura di veri e propri graphical overhaul, con il passaggio di tutti e tre i titoli alla Real Engine 4. Per me una collection del genere sarebbe una bomba e sono convinto che molti di voi non hanno mai avuto l'occasione di avvicinarsi a queste tre pietre miliari della serie. Sì, GTA 3 non sarà invecchiato nel migliore dei modi, ma con i dovuti aggiustamenti Vice City e San Andreas potrebbero fare la loro porca figura ancora oggi. Siete n'hype per questa collection? E chiudiamo poracci riaccendendo la speranza di molti gamer. Ci sono infatti parecchi rumor che punterebbero verso la rinascita di un publisher che da qualche anno non riesce più a lasciare l'impronta di una volta nel mondo dei videogiochi, e mi riferisco ovviamente a Konami. Negli ultimi anni Konami si è allontanata dal mondo delle grandi produzioni videoludiche, dedicando gran parte delle risorse della sua gaming division al mercato del pacinco. Ora però, secondo alcune fonti anonime entrate in contatto con Video Games Chronicle, in seguito a una ristrutturazione aziendale, Konami sarebbe pronta a investire nuovamente nel mercato delle produzioni premium AAA, con l'obiettivo di resuscitare tre brand storici. Il primo è Castlevania. Konami sarebbe lavorando internamente, con supporto da studi locali e esterni, a una reimmaginazione della serie, una sorta di nuovo punto di partenza. Il secondo brand è Metal Gear Solid. Contrariamente a quanto speculato fino ad ora, il progetto non sarebbe stato affidato a Bluepoint, che come abbiamo visto è entrato a far parte dei PlayStation Studios, ma un altro studio esterno, ovvero Virtus, uno dei più grandi studi di sviluppo al mondo, specializzato sia nel supporto alla realizzazione di AAA, come Battlefield 1, Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn, che nei porting di titoli recenti, come i porting per Switch di Dark Souls, The Outer Worlds e anche The Bioshock Collection. Si tratterebbe di un nuovo progetto, ma non di un remake di Metal Gear Solid 1, bensì di Snake Eater, il terzo capitolo della serie. E infine si parla di Silent Hill, di cui sarebbero in lavorazione diversi progetti gestiti da studi esterni, tra cui figurerebbe anche il nome di Bloober Team, autori del recente di Medium. Tutti questi progetti, previsti inizialmente per essere svelati nel corso del 2021, sarebbero slittati al 2022, un altro potenziale appuntamento che potrebbe rendere il prossimo anno uno dei più importanti nella storia del gaming. E voi, Poracci, che ne pensate di questi piani di Konami? Sono credibili, secondo voi? E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Io vi do appuntamento a lunedì per un nuovo video, oppure a sabato, a domani, nel caso doveste passare a Romics, mi troverete lì. In caso contrario, mi raccomando, fate bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Bloober, Michele di LSS, ciao! Fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poro, l'unico format... Spero che si sbagli nei primi tre secondi registrazione. Poracci bentornati o ben... Poracci ben... Poracci benvenuti o ben 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 ben...